Finte maghe minacciavano malefici ai malcapitati clienti per spillare i loro soldi, molti soldi, ma non sono riuscite a prevedere che per loro sarebbero scattate le manette, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa gravata ai danni di decine di persone. In carcere alle novate si trova un quarantenne foggiano residente a Piacenza, su ordinanza del Tribunale di Frosinone. Arrestate dai carabinieri anche la convivente e una piacentina, MB, di 41 anni. Entrambe sono ai domiciliari. L'uomo, GS Le Iniziali, è ritenuto il perno di un sistema di raggiri legato all'esoterismo. Le donne maghe si facevano pubblicità su riviste del settore, ricevevano telefonate di cittadini che chiedevano aiuto per risolvere problemi di salute, lavoro e di cuore. Secondo le accuse, i tre creavano sudditanza psicologica nelle vittime, minacciando malefici e malattie nel caso le persone non continuassero con i consulti, che spesso avvenivano al telefono e solo raramente di persona, e mai a Piacenza. L'indagine è il seguito di una prima operazione che nei mesi scorsi aveva già visto finire in manette la convivente del Foggiano per gli stessi reati. I clienti chiamavano da tutta Italia, trovando il numero delle maghe su riviste del settore. Il caso più eclatante riguarda una donna di Frosinone, la prima a fare denuncia, raggirata per 200.000 euro. Negli altri si parla di cifre che vanno dai 1.500 ai 7.500 euro, sequestrate cassette postali con circa 200.000 euro. Grazie per la visione!